Sono passati quasi 70 anni da quando Israele occupò la maggior parte della Palestina, il giorno della Nakba. La Nakba non è finita, continua ancora. Per questo noi dobbiamo aumentare il nostro attivismo a favore della Palestina. In particolare, come facente parte del BDS, domani, giorno della Nakba, lanceremo una campagna contro HP, Hewlett Packard, una grossa multinazionale che produce tablet, computer, in tutti gli stati li abbiamo, e soprattutto collabora con Israele, al quale fornisce la tecnologia informatica per la marina militare, per le forze armate e per l'esercito che attua i checkpoint in Cisjordania per limitare il movimento e l'accesso dei palestinesi ad Israele e a Gaza. Questo sistema si basa sul sistema che gestisce HP per Israele, si basa su carte biometriche che usano dati biometrici per la catalogazione dei palestinesi e li suddivide tutta la popolazione e viene suddivisa mediante questo database che così si forma secondo etnia e religione. Questo è un modo proprio razzista di considerare e trattare la società.